Partita la batteria, andiamo a vedere Beggiato che si è portata in testa, seguita da Loreni, poi Pignat, ancora l'atleta di Casier a condurre, Campana si fa sotto Loreni, torna anche Pignat, ancora Beggiato in testa con Loreni e Pignat che si sono riportate sull'atleta della polisportiva di Casier e ora vanno a chiudere con Beggiato in 47-27. Intanto è partita la seconda batteria con Calandria, Varani, Rippamonti, Maradei e Aiello ed è subito Asia Varani che si porta in testa a lunga l'atleta della rolling bosica di Martinsicuro attenzione c'è una caduta per la Varani sulla curva, c'è stato un puntata ed è caduta l'atleta del rolling bosica attenzione abbiamo ancora l'atleta a terra sulla curva, andiamo alla corda, siamo da lì, sanitari per favore intanto va a chiudere, è partita la terza batteria con Vitale, Parma, Greci, Rossini, Valagussa Atleta della rotellistica Rosetta di Merata in testa Rebecca Valagussa ora alle sue spalle, Greci, Portigluno Fabriano Vitale all'interno va a prendere la seconda posizione e da Lucrezia Vitale ora che passa, vanno a chiudere, 46-83 il tempo ufficioso partita la batteria ed è Vio che si porta in testa con Berto in seconda ruota Vio, Berto e Balanzano nell'ordine, con Balanzano ora all'interno che va a prendersi la seconda posizione al passaggio suono della campana, ancora in testa l'atleta dei pattinatori di Spinea Chiara Vio ora all'esterno, Balanzano cerca di passare e riesce nella manovra ed è Balanzano che va a chiudere in 47 e 47 partita la batteria ed è subito Carrer che si è portata al comando con Massara poi Granò, poi Cesca, poi Mezzalira, allunga Carrer ed è Granò ora che va a prendere la seconda posizione con Carrer che prende la campana Cesca si porta al secondo posto ma dietro l'atleta della polisportiva di Casier ci sono una ventina di metri, ora Cesca ha un'indecisione sulla curva, va a chiudere Carrer in 46 e 27 partita regolarmente intanto Senior Maschi all'appello ma li vedo già in zona Gazebo ed è Buccolini che si è portata in testa anche lei ieri sera protagonista medaglia d'argento per Buccolini nel giro crono atleti contrapposti proprio alle spalle di Asia Varani ed è ancora Buccolini in testa seguita da Buongiorno va a chiudere Buccolini in 45 e 70 davanti a Giulia Buongiorno parte la batteria l'issandron con Gatti poi Zanoni che si riporta ma è l'atleta della Brianza che va a chiudere in 46 e 57 alle spalle di Gatti ora al passaggio Campana lissandron Gatti all'esterno passa l'atleta della Brianza in line ed è Gatti lissandron Zanoni poi Girotti ma è l'atleta della Brianza che va a chiudere in 46 e 54 tempo ufficioso partita la batteria l'atleta del Cardano Schetting Aiello suono della campana suono della campana che va a chiudere in 48 e 94